Michela Rucli, Aero Italia SMI Roma. Michela, forse non è andata proprio come speravate, cosa vi è mancato in campo questa sera? Ma è mancato magari l'energia che di solito mettiamo proprio all'inizio della partita. Noi spingiamo forte e oggi è mancato e abbiamo faticato. Cunio sicuramente ha presentato la sua migliore faccia e noi non siamo riusciti a contrastare. Forse la seconda partita in 5-7 nel giro di pochi giorni ha avuto il suo peso? Sì può essere, può essere sicuramente. Non è un campionato facile ma come noi tutte le altre squadre hanno giocato questa infrasettimanale quindi non è sicuramente una scusa. Nello sport è così, si vince o si perde. Il bello del volley però è che anche nella sconfitta c'è sempre qualcosa da imparare. Cosa ti porti a casa da questa sera? Ci portiamo a casa che dobbiamo lavorare sicuramente su alcune cose tecnicamente ma anche che dobbiamo aspettarci che la squadra contro cui giochiamo risponderà forte e noi dobbiamo fare ancora di meglio nonostante la stanchezza, nonostante tutto. Grazie, buon ritorno a Roma. Grazie.